Sul lato del ponte di cemento armato, sulla strada provinciale 161 a Casalvelino Marina, un pino ha messo radici ed è cresciuto forte e verde. Il ponte sul fiume Alento in queste ore infatti è stato chiuso perché è pericolante. Nei giorni scorsi un cittadino del posto aveva messo in risalto la situazione precaria in cui versa la strada provinciale 161 corredando il suo posto su Facebook. con diverse foto e un video. Ieri pomeriggio la strada è stata interdetta al transito sul posto i carabinieri e i vigili urbani in entrambi le direzioni per deviare il traffico veicolare verso il bivio di Acquavella a Casalvelino Scalo. Qual meraviglia sul fiume Alento, un ardito fusto senza contegno trae nutrimento dal vile cemento. Sono i versi della poesia scritta da Gianluca Astore, cittadino del posto, che ha messo in evidenza la situazione sdrammatizzando con versi poetici ed ironici la pericolosità in cui versa il ponte di cemento armato ormai deteriorato, mal ridotto e abbandonato a se stesso da tempo. Nascosto agli occhi degli ingegneri provinciali, ignorato da distratti amministratori comunali, l'albero silente, testimone vivente di un paese che ha poca attenzione, che non fa prevenzione, che non fa manutenzione, ti andrebbe fatto un monumento, albero snaturato e dissidente, espressione vivente di chi non si arrende, eppure vivi pur senza la fortuna dei tuoi simili che affondano radici quiete nella terra. Tu no, silenzioso, ti slanci oltre i limiti sospeso nel vuoto, solo immobile spargi i tuoi aghi in quel fiume che scorre lento a pochi passi da Elea. Certo, ci si potrebbe vantare del bosco orizzontale, così come fa Milano col bosco verticale, ma Genova non la si può dimenticare. Una situazione questa che dura da diverso tempo ed è visibile anche dalle foto di Google Maps che stanno a testimoniare che il pino sta crescendo indisturbato già da diversi anni.